Allo stacco emerge Power of Love Va che dall'esterno supera Pelé Real e Pantera Jet. A largo perimetro bar, l'errore di Pasadena OM. I primi 200 metri in 14.8 al comando, Pantera Jet che rientra a Power of Love Va. Poi Pelé Real in seconda posizione, in terza Priamo Doc a largo perimetro bar, poi Providence Wall in quarta posizione, di dentro percorsi esterne, primera front. 30.5 e primi 4 a tabellone Pasadena OM. E così dopo mezzo giro Power of Love Va va ad impegnare Pantera Jet, ottiene il comando delle operazioni all'altezza dei primi 600 metri veloci in 45.2, 14.6 la terza frazione. Si va a lungo d'arco della seconda curva al comando Power of Love Va nei confronti di Pantera Jet e perimetro bar. I primi 800 metri in un minuto e sei decimi si viaggia da 1.15.8, 15.4 in piegata. Per linee esterne in terza corsia dal fondo del gruppo Putin di cielo. A largo avanza anche Predator Gad, 1.15.4 il chilometro, 14.8 davanti alle tribune. Power of Love Va in avvantaggio quando i cavalli affrontano la penultima curva. Alle sue spalle perimetro bar che scavalca Pantera Jet e Putin di cielo per linee esterne. Sbaglia anche il primera front che finisce squalificata. L'errore nelle retrovie di Perflying, 16 il paletto per iniziare il chilometro conclusivo. Power of Love Va in avvantaggio su Putin di cielo e Predator Gad che viene via in terza corsia. All'inseguimento c'è anche Pelerreal, 31.5, 400 intermedi con Power of Love Va che inizia ad essere richiesto a maggiore impegno. Arriva Predator Gad, non è della partita Putin di cielo. Di dentro perimetro bar, 14.5 la frazione, 2.1 e mezzo il miglio. Predator Gad che è preponderante a 300 dalla conclusione su Power of Love Va. Poi Perimetro Bar che litiga con Pelerreal in terza corsia. Providence Vol, Predator Gad che è passato in avvantaggio all'ingresso addirittura su Pelerreal. Providence Vol prova a sgabbiare anche Perimetro Bar. Predator Gad in evidenza. Providence che sgabbia tardi. Vince Predator Gad su Providence Vol mentre al terzo posto termina il numero 6 Perimetro Bar. 2.31 e mezzo, 31 gli ultimi 400 metri, 44.6 gli ultimi 6, 1.15.8 il doppio chilometro. La vittoria e anche record in carriera per il numero 11 Predator Gad con Vincenzo Villani. Mentre per quanto riguarda il secondo termina a largo di tutti il numero 8 Providence Vol dal terzo e il numero 6 Perimetro Bar.